Benvenuti su Team Digital JFK News, il Quarantim di giovani reporter. Luna splendida e abbraccia il mondo. In questi giorni così bui, anche il cielo piange, le bandiere sventrano dai balconi, non si canta più. Tutto tace e in questo silenzio il suono delle sirene ci riporta la realtà. Sole splendida e riscalda il mondo, illumina con i tuoi raggi i parchi, i palazzi e le montagne. Torneranno gli abbracci, torneremo a viaggiare. Tutto tornerà e andrà tutto bene. Grazie. 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 Grazie a tutti